e senza troppi indugi direttamente dopo la quinta registro la sesta diamo vamos è subito un filmato piano piano si sono incontrati il gruppo il gruppo si riunisce completo quindi combattiamo contro il boss la regina dei ragni in quattro la regina dei ragni la regina dei ragni la regina dei ragni quando si è stata fatta a restare puoi accettare il cristallo del chidani e ritornarlo alla sicurezza del castello ma sarà la propria della gente del chidani la regina dei ragazzi allora devi rispettare i miei creditori io sono tanto del mondo degli animali come tu sei da quello degli uomini questo è il nostro modo Gaara morirà meravigliamente a mia mano se devo usare lei per combattere il boss sarà piuttosto dura si infatti è enorme non è che l'ho salvato ah lì c'è la sua vita devo usare un po' di intelligenza ok mi sono tempesta di calci vento di respiro no è tempesta di calci ma parte così non mi dà neanche tempo di caricarlo non gli fa nulla mi sa ok ci devo riprovare ok qui lui mi ha sbagliato è andato a vuoto non gli fa niente oh sì no sembra che il danno ne lo stia facendo vedo del sangue a blu no ho sbagliato alla miseria non gli faccio nulla male ma dove devo colpirla ah quando è qui ho capito beccati la tempesta di calci prima ho sbagliato strategia quando si ribalta bisogna colpire non gli faccio devo usare devo mettermi qui aspettare che arrivi così non è così impossibile via adesso ho capito la strategia per affrontarlo ho sprecato un bel po' di cure vieni su via via quasi qua si usa di nuovo la tempesta di calci via 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 mi è arrivato un messaggio non è così complicato affrontare la regina dei ragni avevo sbagliato prima io come ho già detto non l'affrontavo con la giusta strategia adesso ho capito dai ancora un po' di colpi e la battiamo via mi dispiace per le cure ha riusciuto la pregamina del dente di vampiro sembrava ancora viva prima sbaglio la terra ha tremato attenti ne arrivano altri non ne sentivamo certo il bisogno via via tutti fuori di qui subito decisione saggia venite da questa parte ma da dove saltano fuori quelli ci mangeranno vivi prima devono cucinarci spero non soffriate di vertigini perché l'unica via di fuga è in alto forza col jetpack è meglio che vediamo chi è? costui? costai? no costui cos'è? un uomo o una donna? non è che si capisce tanto bene si scoprirà più avanti suppongo questo è davvero incredibile! noi eravamo e... ora siamo... qui? Questa non sembrava come Illumina per me. Mi conosco questo posto. Siamo nel mondo di scuola, dove Mo' era per aiutare i miei amici per la sicurezza. È proprio come si era descritto in le scritture. Sono benvenuto, per ora andando in il cielo. Non so se per il cielo, ma ho dovuto investigare. In pratica siamo finalmente il gruppo riunito, tutte e quattro, e non sappiamo dove siamo, e non sappiamo dove andare. Quindi, direi di procedere un po' e sperare bene. Controlla cosa? Il cerchio di pet assomiglia a un varco, ma non racchiude alcun potere magico. Non lo so, io giro, ma... Ma questa non è la strada giusta. Beh, ho fatto bene a venire qui per le anfore. Va, lasciamo tutto così, per ora. Dovrebbe essere questa qui la strada giusta, eh. Almeno secondo la freccetta. Questo cosa sta a fare? Niente di che. Perlomeno siamo all'esterno. Questi qui? Uh, si tolgono la vita. Correre, correre. Ok, fin lì non arrivano. Qui c'è un salvataggio. Direi di salvare sul tempio di Mo. Soprascrivere. Voilà. Una specie di lupi mannari. Lupi con le spalle. Ah, io. Mi farebbe molto comodo quella fonte di vita adesso, eh. Penso che sono in problemi qui. Un'andata. Niente. Lui non mi piace per nulla. Tal. E nei guai. Allora, spacca ossa. Ehi. I'll restri il teore con il vostro Ian. Hmm. I'm in trouble here. Sono un po' nella cacca MEDIC! Oh, posso continuare così, eh? Questa è questa pietra? Questa roda! Sto smembrato, ora c'è ancora uno! Ripristina, guarisce in singolo PD, rianima con mille tutti i PD! Questa qui! Non ho fatto la scelta giusta! Una volta scelta! A livello successivo, conviene potenziarli un po' ai ragazzi! E quanti ne ha tal! Allora, facciamo la salute ancora una volta! Questo può essere utile! Ok, tal ha andato avanti, adesso mandiamo gli altri avanti! Anche lei ne ha un bel po' di... Eilish cosa fa? Bacio della strega! Ripristina il PD tutti i membri del gruppo a partire da 200 PD! Questo è utile perché ne aumento l'essenza! Praticamente lei può curare gli altri membri! Anche lei può essere molto utile! Tempesta di calcio, artiglio impazzito! Dovamo mettergli questo? Asilas di lupo! Si, mettere anche questo dai! Voilà! Potrei anche andare avanti! Però... Oggetti c'ha qualcosa che... Guarda, c'è ardenze! Devo fare attenzione! Mi conviene fare un altro salvataggio ma salvare in un altro slot perché... Non si sa mai! Ok, andiamo avanti! Non che siano proprio al massimo i miei personaggi! Qui c'è qualche anfora! Anche vaso! Non sto giocando tanto bene in effetti! Sto sprecando tante pozioni! Devo fare più attenzione! D'ogni modo, non conoscendo il gioco... Ci sta! Questa dove andremo adesso! Beh, troppo bello per essere vero! Dovrei dare a Delish la capacità... Ok, lei può curare! Bacio della strengale! Guarda gli ultimi ultimi ultimi... Stando a parte del loro PD! Toff! Cura lì un po'! Ok! Lei non ha nulla! Lui invece ce l'ha però! Scintilla di lama! Vediamo che la fascia d'attacco! Fa dei bei danni! Lo confesso! Volontà della spada! Proviamo anche questo! A uno riprova tutti gli attacchi! L'ho detto fare eh! E' vero che posso anche parare! Qual era il parare più? Era... Non mi ricordo del tasto per pagare... Non devo occuparmi adesso! Della parata! L'ho detto, che c'è la scuola! Ah, ecco così si paro! Quanto c'è una... a scomparire distruggerlo oh vaffanbrodo ancora? dov'è cosa? dov'è Eilish? ok Eilish curati cara Eilish usa il bacio della strega cura un po' tutti almeno questa abilità qui un pieno aiuto ha resistito ancora tanto? dov'è essere ancora uno l'assi no due finiscono qui sti nemici no ne tornano ancora posso fare qualcosa? non è ancora sufficiente terra bruciata scelto reale oggetti bassamo cosa c'è di oggetti utili? dov'è curare di nuovo un po' tutti troppi nemici troppi veramente non è possibile usare l'attacco più potente che ho bene è arrivato al tappeto ok destino dai andate giù di nuovo bacio dalla strega dai ma non è una resistenza alta sti esseri e l'altro cosa fa? Eilish se ne sta pericò finalmente basta basta avete rotto voglio vedere cosa fate adesso ripolverizzo ripolverizzo ancora forse mi conviene battere in ritirata non lo so no è stato bello per essere vero ma va con me deve andare beh questo è utile, un guerriero di ferro diventando perlomeno più resistente ai colpi è stato che se mi aiutassero fa caos, vediamo cosa fate un bacio della strega cura non me la dava, mi ero più preoccupato sono troppo sulla difensiva, sono veramente troppo forti questi nemici non riesco a essere incisivo poi ce ne sono veramente tanti spacca ossa di nuovo devo veramente distruggerli il prima possibile allora, c'è ancora qualcosa di utile ok però non serve a niente mi attacco nei 3000 devo per forza usare l'ultimo che ho se si muove ok ok allora prima cosa di nuovo bacio della strega puoi vedo una mazza dove sono i nemici? ecco palla infuocata distruggire ti prego dai una quasi distrutta finita mamma mia mamma mia mamma mia veramente troppo dura questa volta è stata veramente tosta se nemici così sarei fottuto veramente non lo so dove vado prima apro tutte le casse perché almeno trovo un po' di roba sì ma se non trovo un venditore un qualcuno che mi venda un po' di oggetti da qui un po' di roba l'ho trovata di roba utile di lì torna indietro non mi conviene andarli mi conviene curare lei almeno un altro dai voilà possiamo andare diventa veramente tosta posso andare di qua cioè di qua posso andare o no? ok bloccato perfetto non è la chiave proprio per questa porta quindi devo andare di là di qua ma almeno lo so qui si può entrare qui c'è un salvataggio assolutamente salvo salviamo assolutissimamente qui magari salviamo al tempo di Mo il tempio di Mo c'è qualcuno? casa di Exam quindi è una casa di qualcuno sugli scaffali sono allineati antichi tomi che narrano delle leggende antropomorfe delle gesta di Mo questo libro sembra scritto in una lingua antica c'è sono venuto qui per non trovare nulla ah no aspettate qui c'è qualcosa si può salire meno male mi sembrava un po' troppo strano lottando lottando qui c'è ah ti chiede che hai usato il portale Sì, sarebbe più sicuro di dire che abbiamo usato a noi. Quindi non hai una scuola di navigazione. Sir, non abbiamo una scuola. Beh, dovresti attivare il portale. Potremmo c'era una scuola magica che ci ha scopo. In ogni caso, senza una scuola di navigazione potresti stacchi. Stacchi? Brutta faccenda. Il portale o il nexus di shadow era fatto da anni fa, prima del tempo della separazione. È come arrivavamo qui, antropomorpi. Non tutti lo hanno fatto in tempo, e ci sono un po' di noi che restano vivi. Abbiamo scelto di fare la nostra nirvana qui. Fascinante, sicuramente, ma dobbiamo arrivare a casa. Onde possiamo trovare una delle stuole? La scuola di cui si scoppilano. Alla scuola di fondamentale, se le stuole di Aigu split the world of Sudeiki in due, la scuola fu fuori. La scuola di più. La scuola di fondamentale, la scuola di fondamentale, è stata la scuola di Lord Farrak's Law di guardare. Un altro scuola di un'altra scuola di una scuola. Un'altra scuola di un'altra scuola di un'altra scuola. Il mondo di Chloria. Il mondo di Chidani. Il mondo di Chloria. 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 Chissà cosa succederà.